Ciao, sono Federico di Pharma. Oggi parliamo di un prodotto aboca che si chiama Neobianacid. Neobianacid è un dispositivo medico innovativo per il trattamento dell'acidità di stomaco, terraflusso e dei problemi di digestione e tutte le sintomatologie correlate, come ad esempio dolore, bruciore, sensazione di pesantezza e meteoritmo. E' stata identificata come causa comune di queste sintomatologie l'infiammazione della mucosa dello stomaco e dell'esofago, causata dal contatto diretto con i succhi gastrici acidi. Naturalmente, infatti, lo stomaco e l'esofago sono protette nei confronti dei succhi gastrici da uno strato di muco, che si chiama appunto muco gastrico. Nei periodi di stress o a causa di utilizzo di farmaci, ad esempio come gli antinfiammatori, è possibile che questo muco venga indebolito o addirittura si assente. In questi episodi, infatti, i succhi gastrici acidi possono andare in contatto diretto con la mucosa, causarne quindi l'infiammazione e tutta la sintomatologia correlata, come gastrite, acidità e reflusso. La farmacologia classica, per trattare questa sintomatologia, si avvale spesso dei farmaci appartenenti alla famiglia degli inibitori di pompa protonica, come ad esempio pantoprazolo, omoprazolo, lansovrazolo o d'altri. Questi farmaci sono sicuramente molto utili, ma non sono sempre la strategia terapeutica più indicata, perché l'acido è nello stomaco per un motivo e svolge appunto delle funzioni molto importanti, come ad esempio l'acido è molto importante per tutte le funzioni digestive, per l'assorbimento della vitamina B12 e anche per garantire la neutralizzazione di molti batteri che vengono ingeriti con la dieta. L'innovazione di Neobianacid di Abuka infatti sta nella volontà di andare a incrementare le difese fisiologiche della bucosa senza andare a ridurre la produzione di acido. Neobianacid agisce grazie a PoliProtect, che è un complesso molecolare a base di polisaccaridi dell'aloe, della malva, dell'altea e minerali naturali. Questo complesso molecolare riesce ad aderire perfettamente sulle bucose, svolgendo quindi un'azione di protezione nei confronti dell'attacco acido e svolgendo anche un'azione anti-infiammatoria indiretta. Sono stati svolti moltissimi studi su questo prodotto che ne affermano l'efficacia e la funzionalità. Neobianacid di Abuka è disponibile in compresse masticabili oppure anche in bostine orassolubili. La posologia è di una compressa dopo ogni pasto principale e una compressa prima di colicarsi. È possibile usare Neobianacid anche al bisogno oppure anche in prevenzione dell'irritazione della bucosa, ad esempio in periodi di alto stress, nei periodi di cambio di stagione, oppure in associazione ai farmaci anti-infiammatori. Neobianacid con la stessa posologia può essere utilizzato anche dai 6 anni in su e grazie alla sua alta dollerabilità è possibile svolgere trattamenti anche molto prolungati nel tempo. Spero che questo intervento ti abbia fatto capire un po' di più il prodotto Neobianacid di Abuka. Rimaniamo disponibili per ogni chiarimento, puoi scriverci qua sotto.